Sono passati 70 anni da quando la notte fra il 2 e il 3 marzo del 1944, il treno 8.017, si fermò nella galleria delle armi nei pressi di Balvano, nel potentino e il fumo tossico delle sue due locomotive uccise circa 600 persone, la maggior parte di quelle che erano a bordo di carri e carrozze allestite alla bella e meglio. La maggior parte, prima allineati sul marciapiedi della stazione di Balvano, divisi fra uomini e donne, furono sepolti in quattro fosse comuni nel cimitero del paese. 402, dice un registro, tanti anni dopo il figlio di una delle vittime fece costruire una cappella nel cimitero di Balvano, ancora oggi metadi discendenti di molti di quei morti, come è accaduto anche questa mattina in occasione dell'anniversario di quella che viene considerata la più grave sciagura della storia italiana per quanto riguarda i trasporti ferroviari. Si è cercato per molti anni di occultare questa storia che riguarda l'essere umano, riguarda la vita umana di tante persone in un momento di tragedia assurda che era la guerra e questa si aggiunge ad un momento straordinario, parliamo del 3 marzo. C'è stato chi è venuto per la prima volta, chi invece sono anni che porta un fiore al cimitero di Balvano. Sono partiti ed era un lungo giorno di nebbia finita, poi dopo tre giorni abbiamo avuto la notizia che era finito.